Giacca invernale uomo, con varie taglie e colore da scegliere, ordina uno o due taglie più grande della tua, perché veste stretto, ma vi garantisco tiene bello caldo, ed è comoda, soprattutto, ora che fa più freddo, questa giacca è ideale, vedrete che una volta indosso. Non volete più levarla, buona la qualità prezzo, la consiglio, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.